attraverso mario del giglio tutto è uno attraverso mario del giglio caro fratello io in questo momento il mio pensiero ed attingo eventualmente da altri la risposta o la spiegazione del concetto che ti devo comunicare voi usate le parole per esprimere il pensiero che non è altro che il frutto della consapevolezza da voi acquisita nella vostra esperienza terrena non certo in quella spirituale ebbene io differentemente da te ho questa possibilità posso rispondere per la mia esperienza spirituale non offuscata dal corpo se voi comprenderete il significato della ricerca interiore capirete più distintamente e più ampliamente il vostro pensiero io per esempio non ho il pensiero per rispondere ad una domanda però per farti comprendere in modo esauriente a livello spirituale posso fare ricorso mentalmente ad altri fratelli che attraverso un fascio di luce mi comunicano il loro pensiero ed io lo percepisco per effetto della mia capacità di sentire questo pensiero si trasmette come un fascio di luce poniamo che voi per esempio nel pensare ad un problema che vi assilla per avere la risposta accendiate l'interruttore della luce la risposta al vostro quesito arriva istantaneamente come la luce appena si accende la lampadina nella stanza ecco mi sembra chiaro ho risposto in parte secondo il mio sentire altri fratelli hanno collaborato e trasmesso a mario i concetti necessari per spiegarvi il nostro pensiero però per farvi capire sono state impiegate tante parole mentre nella mia dimensione si può comprendere immediatamente ve l'ho spiegato con l'esempio dell'interruttore che accende la lampada